Meglio di così proprio non poteva andare per Linda Lonzardi. La nuotatrice di Forlin Popoli ha concluso la propria partecipazione ai campionati italiani master con un bottino ricco, ben due ori e un bronzo, che le hanno anche permesso di cogliere un terzo posto nel Gran Premio di Palermo, un piazzamento attribuito in base ai 5 migliori punteggi riassunti nelle diverse gare del circuito master fin. L'atleta del fanatic Tim Forlì ha subito messo la propria impronta sulla manifestazione, aggiudicandosi la prova dei 50 metri d'orso col tempo di 31,15, una volata vincente per la romagnola conclusasi precedendo di 35 centesimi la marchigiana Valentina Lucconi e di 83 la pisana Costanza Saletti. La Forlin Popolese si è poi ripetuta sulla stessa distanza ma nello stile libero, anche qui aggiudicandosi un appassionante testa a testa con Viviana Ascardi, quest'ultima distanziata di 58 centesimi grazie al tempo di 27,44. Dulcis in fundo il terzo posto nei 100 stile libero dove Linda ha dovuto cedere il passo solo a Sara Rotondi, trionfatrice in 59,47 e alla stessa Viviana Viscardi chiudendo in 1 minuto e 87. Un terzo posto che gli ha permesso di coronare la propria personalissima tripletta in vista di nuovi traguardi da tagliare in futuro.